Rispetto per la natura, benessere per gli esseri viventi, cultura della diversità e valorizzazione delle tradizioni sono alcuni degli ingredienti del progetto che è nato recentemente vicino a Cascina Marasco, alle porte di Cremona, dove da anni assiede la cooperativa Agropolis che offre servizi e sostegno alle persone diversamente abili e alle loro famiglie e che riguarda la lavorazione del pane biologico partendo proprio dalla coltivazione dei campi vicini alla Cascina. Nei nostri terreni coltiviamo vecchie varietà di grano e popolazioni evolutive seguendo il regime biologico e quindi cerchiamo di rispettare quello che madre natura ci ha dato e di implementare la biodiversità e la fertilità dei terreni. Dietro alle nostre spalle potete vedere un campo sperimentale, quindi di ricerca e sviluppo dell'azienda, dove mettiamo a confronto diverse varietà antiche e moderne e andiamo poi a verificare quelle che sono le genetiche più adatte ai nostri terreni, al nostro ambiente, quelle che poi saranno anche quelle più adatte per la panificazione e la trasformazione in prodotti finiti. Il laboratorio è proprio nei pressi dei campi. Qui trasformiamo in pane tutto quello che viene coltivato nei nostri campi, col valore aggiunto della fermentazione fatta con solo ed esclusivamente lievito madre per tutti i nostri prodotti. Curato anche l'aspetto del valore nutrizionale. Utilizziamo solo ed esclusivamente farine macinate a pietra ed agricoltura biologica. Il valore aggiunto di questo prodotto, oltre alla macinazione a pietra, che conserva tutta la parte buona, sana e nutriente del chicco, è il lievito madre. La sfida del biologico in una zona che è comunque una delle più inquinate non solo d'Italia ma d'Europa. La parte esterna del chicco, che è la parte più cruscale, non solo viene lavata, grattata e eliminata in partenza, ma poi viene selezionata durante la macinazione e scartata. Quindi tutta la parte più buona e nutriente che è all'interno del chicco non subisce il trascinamento di questi elementi inquinanti. In questo progetto si intrecciano agricoltura biologica e sociale. È un progetto olistico, quindi si parte dalla terra per produrre cibo, per avviare progetti sociali e per fare un'economia reale.